Buonasera e benvenuti a tutti i telespettatori a Primo Piano, un nuovo programma televisivo di Rossini TV dove affronteremo insieme temi e problemi di attualità e del territorio. Oggi affrontiamo una realtà dolorosa e troppo spesso trascurata, quella del bullismo. Si stima che un giovane su tre in Italia ne sia vittima, una statistica che ci dovrebbe far riflettere. Il bullismo non è solo un'aggressione fisica, è una violenza che può assumere molte forme, dall'insulto verbale all'esclusione sociale fino al sempre più diffuso cyberbullismo che colpisce senza confini anche attraverso uno schermo. Dietro ogni numero c'è una storia, adolescenti che affrontano ogni giorno il peso dell'umiliazione, della paura e spesso del silenzio, perché il silenzio è l'alleato più potente del bullo. Spesso chi subisce questi atti non ha la forza o il coraggio di chiedere aiuto, temendo giudizi o, peggio, di non essere creduto. Ma questa sera non vogliamo limitarci a raccontare il problema, vogliamo capire come affrontarlo. Per questo noi discuteremo con tre ospiti esperti che ci aiuteranno a riflettere su come possiamo tutti, come genitori, insegnanti, amici, ma soprattutto come società, prevenire e combattere questo fenomeno. Il bullismo è un problema di tutti e tutti possiamo fare qualcosa per affermarlo e per costruire insieme una comunità più inclusiva in cui nessuno debba sentirsi solo o impotente. Qui con noi questa sera per parlarne, a partire dalla mia sinistra, abbiamo Eleonora Palma, psicologa e psicoterapeuta che fa parte di Snodo 1, il nuovo spazio di ascolto di Pesaro all'interno dell'oratorio di Loreto, dedicato a giovani e famiglie, nato per affrontare le sfide dell'adolescenza e del disagio mentale. Buonasera, dottoressa. Buonasera, grazie. A seguire Marco Lanzi, segretario del SIULP Pesaro Urbino, ovvero il sindacato italiano unitario dei laboratori della Polizia, da anni impegnato nelle scuole ad affrontare il tema del cyberbullismo. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. E l'avvocato Pia Perricci, che segue il caso della famiglia del giovane Leonardo, il ragazzo di 15 anni di Senigallia che proprio per colpa del bullismo ha deciso di togliersi la vita il 13 ottobre. Buonasera, avvocato. Buonasera a tutti. Ecco, avvocato, io partirei proprio da qui. Inizierei con lei questa puntata e il discorso su questo tema, è la notizia appunto del tragico gesto di Leonardo, è una notizia recente, se ne sta parlando fortunatamente da questo punto di vista, forse sarebbe stato meglio parlarne prima, quindi le chiedo innanzitutto se ci racconta chi è Leonardo e come si è arrivati a quel tragico gesto del 13 ottobre. Ma io Leonardo l'ho conosciuto una decina di anni fa perché sono anche un'amica di famiglia. Era un bambino solare, splendente, con due occhioni bellissimi, uno sguardo vivo, pulito e cresciuto. È diventato un ragazzo forse diverso da quelli che siamo abituati a vedere in questi giorni perché era un ragazzo che preferiva indossare la camicia e il pantalone e andare in giro vestito ordinato, era un ragazzo che aveva voglia di studiare, era un ragazzo che è molto sportivo, era un ragazzo che si impegnava in tutte le attività che svolgeva. E basti immaginare che nella scuola che frequentava l'anno precedente, e sostanzialmente c'erano delle materie che a lui non piacevano e lui si è impegnato, nonostante delle insufficienze prese nel primo quadrimestre, si è impegnato per riuscire a superare l'anno senza portarsi debiti perché voleva avere l'estate libera per poter affrontare il nuovo istituto, il nuovo anno in tutta serenità. Quindi era un ragazzo che si impegnava, era molto educato, spesso e volentieri parlava dando del lei, che può essere scontato quando non si conosce qualcuno, ma che al giorno d'oggi forse non è più tanto scontato. Una famiglia, sebbene separati, molto uniti, dove Leonardo, a seconda di quelli che erano gli impegni che aveva, si muoveva fra i genitori, che sebbene avessero delle altre vite con altri compagni, erano comunque soliti frequentarsi, stare tutti quanti insieme per il bene di Leonardo. Forse, io l'ho già detto tante volte, forse è stata questa troppa educazione che ha portato Leonardo questa troppa educazione a portare Leonardo alla sua morte perché Leonardo ha iniziato l'anno sconastico con molta allegria perché doveva affrontare una nuova classe dove, peraltro, c'era un suo amico di infanzia. Però già dai primi giorni di scuola rientrava a casa, è rientrato a casa più silenzioso e la mattina si alzava sempre con più fatica, andava a scuola con più fatica. Ha iniziato a parlare di non voglio più andare a scuola, poi ha aggiunto un altro pezzettino dicendo facciamo una scuola serale, una scuola privata. Quindi i genitori hanno iniziato a domandarsi cosa ci fosse, se magari era una di quelle crisi adolescenziali dei quindicenni del non voglio più andare a scuola o se c'era qualcosa di più fondato sul... Faccio un po' fatica perché per me è una storia che mi prende veramente tanto. Il 6 di ottobre Leonardo prende coraggio e parla con la mamma, raccontando alla mamma quello che subiva. Non si possono ripetere le parole che gli dicevano perché sono veramente pesanti e quello che gli facevano perché le parole di Leonardo sono state, mi davano delle manate nelle zone intime facendogli male. Negli spogliatoi in palestra passavano e gli strizzavano i capezzoli, oltre a un continuo vociferare per 6-7 ore al giorno perché in questa scuola il sabato non si va a scuola, quindi avevano un tempo un po' più lungo. La mamma immediatamente contatta il papà, Leonardo il giorno dopo, quindi siamo al 7 di ottobre, parla col papà in una lunga passeggiata e verso la fine di questa passeggiata si aggiunge anche la mamma. Cercano di convincere Leonardo a fare una denuncia, ad andare a denunciare, ma Leonardo era buono e non voleva perché dice io gli rovino la vita se vado a denunciare. Mamma l'amore vince, l'amore risolve, per cui per tenere più tranquillo possibile Leonardo, i genitori avevano concordato insieme a Leonardo che da prima loro avrebbero tentato di parlare con i docenti a scuola per capire quello che succedeva perché il registro di classe era totalmente vuoto, non c'erano notazioni di nessun genere e Leonardo per esempio aveva raccontato che negli ultimi giorni portava perennemente gli auricoliari per non sentire il continuo ronzio di quello che gli dicevano continuamente, quindi massacrato per 6-7 ore al giorno e non sappiamo fuori dalla scuola, adesso ce lo diranno le indagini. Leonardo per cui avevano preso questi accordi, quindi Leonardo cosa fa? Il mercoledì l'otto parla con il coordinatore della classe che peraltro, è bene evidenziarlo, era anche un docente di sostegno, non di Leonardo, di uno dei ragazzi ovviamente della classe perché per questioni di privacy non si dovrebbe sapere di chi è. C'è di fatto che Leonardo dice a questo docente che vuole cambiare scuola, non vuole stare più a scuola, non vuole studiare, non sta bene in quella classe, la risposta del docente è stata c'è l'obbligo scolastico e quindi quella è stata un'altra ammazzata, c'è l'obbligo scolastico, devi andare a scuola. Il giovedì cosa fa Leonardo? Leonardo nel contempo che parlava con questo docente scrive dei messaggi whatsapp alla mamma dicendo il prof, sto parlando col prof, il prof mi dice questo. Per avere sicurezza del nome e cognome di questo docente, la mamma manda un'email a scuola che viene protocollata dalla scuola chiedendo il nome e il cognome del prof di sostegno che è anche coordinatore e la scuola gli risponde, quindi i dati corrispondono. Il giovedì Leonardo prende coraggio, affronta uno dei bulli e gli racconta la mamma quando rientra a casa, mamma ho risolto tutto, mi sono comportato come deve fare un uomo, gli ho stretto la mano e gli ho detto fa niente quello che è stato sinora, da adesso in poi diventiamo amici. Quindi questa è l'educazione che aveva Leonardo, chi era Leonardo? Il giorno dopo è rientrato da scuola muto, totalmente muto, quindi da quello che abbiamo saputo dagli altri compagni è stato massacrato ancora di più, perché tu stringi la mano al bullo e il bullo capisce nella sua mente. Un gesto di pace si è trasformato in un gesto di debolezza nella mente del bullo. Come se il bullo si fosse offeso. No, il bullo si è sentito ancora più forte, perché se tu sei talmente debole da venirmi a stringere la mano invece di darmi un bel e sonoro pugno in faccia, significa che io sono più forte di te, per cui ti affronto ancora di più. Questo è stato quello che è scattato nella mente del bullo, sicuramente. Poi ce lo spiegherà meglio la psicologa, ma la ricostruzione che noi abbiamo potuto fare è più o meno questa. Quindi Leonardo ritorna totalmente muto e dice che non ce la fa più, per cui i genitori gli dicono che il lunedì sarebbero andati a conferire necessariamente con i docenti e con il vicepreside o preside. La domenica Leonardo si toglie la vita. Noi abbiamo pensato, perché il peso di ritornare è stato talmente forte, perché da una parte lui aveva una risposta di un docente che gli ha detto che c'è l'obbligo scolastico, quindi io non ho via d'uscita. Dall'altra parte doveva andare a scuola il lunedì, quindi presumibilmente quello che stiamo cercando di ricostruire, anche leggendo le agende, trovando qualcosa è questo. L'atteggiamento scolastico è stato un atteggiamento di totale assenza? Il bullo non è soltanto colui che picchia, colui che ti insulta, complice del bullo è il silenzio, l'omertà, ed è un complice forte, pesante, che ti dà ancora più forza al bullo. Totale assenza anche dopo la morte di Leonardo, perché nessuno dei docenti ha telefonato ai genitori per fare le condoglianze. Nessuno dei ragazzi, dei genitori dei ragazzi, ha telefonato ai genitori per fare le condoglianze. E questa notizia freschissima di ieri, uno di questi bulli, ieri ha postato su TikTok, pericolosissimo, se usato male, ha fatto un post che ha avuto 41.000 visualizzazioni, dato altissimo, dove ha scritto sostanzialmente, mamme non vi preoccupate, se litighiamo è più facile che ci venite a trovare in questura che in ospedale, proprio a sfregio di quella che è la sofferenza di questi genitori e come segnale del non è successo niente, continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Dall'altra parte, io continuo a insistere su quello che è il ruolo che ha avuto la scuola, perché è stato un ruolo di assenza totale. Nessuno dei docenti ha mai segnalato che Leonardo trascorreva gli ultimi due settimane con le cuffiette alle orecchie, che è gravissimo, un docente dovrebbe segnalarlo, perché quantomeno c'è un canale di comunicazione con la famiglia, dove la famiglia può dire che sta succedendo a Leonardo? Il docente di sostegno, che come tale dovrebbe essere un attimino più empatico, forse, considerato che fa sostegno, non ha pensato di contattare la famiglia per dire Leonardo mi è venuto a parlare e ha detto che non vuole più a scuola. Non c'è stata una risposta, una replica neanche da parte delle istituzioni scolastiche? No, perché il preside addirittura al giorno della morte di Leonardo, il 14, ha diramato una lettera dove ha invitato tutti al silenzio, a non parlare, a non raccontare le voci, quando Marco Lanzi ci può insegnare che le migliori indagini si fanno ascoltando le voci, si seguono le voci. E il preside ha diramato una lettera dicendo non parlate, non dite, dovete dire solo quello che avete visto veramente. Dopo i miei interventi televisivi e grazie al pressing mediatico, in questo vi ringrazio perché bisogna parlare di bullismo, per sensibilizzare, per istruire i docenti e anche i genitori a captare quelli che sono i segnali che danno i ragazzi, che hanno un mondo adolescenziale molto complicato rispetto a quello che era prima, perché adesso sono bombardati da notizie, da tutto e il giorno dopo che io ho detto ma ci rendiamo conto che il preside ha detto state zitti? Il preside il giorno dopo ancora anziché chiedere scusa e quindi dire anche le istituzioni possono sbagliare, ha fatto una lettera del tenore uguale al contrario dove dice dite tutto, raccontate tutto. Non c'è un equilibrio neanche nella reazione. E la parte più assurda è che a giugno dello scorso anno è inserito nel codice disciplinare degli alunni un articolo 17 dove con una spugna ha cancellato tutta la Costituzione, tutta la Repubblica Italiana, perché sostanzialmente dice che se un adulto sia esso genitore dell'alunno, tutore dell'alunno, amministratore dell'alunno, si permette a fare delle dichiarazioni che ledono l'immagine della scuola, non degli alunni, della scuola, ne risponde l'alunno nella prima dichiarazione con la sospensione, con la seconda dichiarazione viene allontanato dall'istituto scolastico. Cioè praticamente se mio figlio che ha 16 anni in questo momento frequentasse quella scuola, mio figlio sarebbe stato allontanato immediatamente dalla scuola per quello che io dico. Perché la madre va a fare una... Torneremo su Leo, ecco anche questa cosa, questo discorso è molto particolare, diciamo la reazione, la decisione della presa e io a Marco Lanzi appunto chiederei un pochettino visto che ha girato e gira tuttora per gli ambienti scolastici, appunto per la sensibilizzazione perché è importante anche parlarne proprio lì dove maggiormente si concentrano i fatti. Io ho raccolto alcuni dati che testimoniano come al crescere dell'età diminuiscono gli atti di bulismo e il picco si tiene dalle medie e il crescendo inizia poi con il liceo, quindi la scuola diventa proprio un luogo dove il bullismo si verifica ma poi traspare anche in quello che è il cyberbullismo. E io chiederei appunto di questo TikTok di cui parlava l'avvocato Perricci, un bullo che risponde con un TikTok a quello che poi è il suicidio a conseguenza degli atti dei compiuti. Vorrei partire però dalla domanda centrale, anzi dai dati centrali che tu hai dato in questo senso. Io ormai ho più di dieci anni che giro tutte le scuole della provincia collaborando anche con delle associazioni importanti come Anteos, come Gens Nova, facendo anche incontri con un mio caro amico Gianmarco Cecconi che ha scritto anche un libro su cyberbullismo. Io mi ricordo che quando iniziai, iniziai proprio dalle scuole medie a fare questi incontri che ragazzi, perché per me, visto anche alla luce del mio lavoro, io ero un commissario di polizia, però ho anche io due figli, quindi queste tematiche mi hanno sempre colpito, soprattutto quando leggendo, apprendo, cominciando a studiare ho visto che purtroppo tantissimi ragazzi appunto si tolgono la vita a causa di bullismo, di cyberbullismo, addirittura le statistiche dicono che un ragazzo su dieci vittima di cyberbullismo tenta il suicidio. E' veramente un bollettino di guerra, sono tantissimi i casi in tutto il mondo, in tutta Europa e in Italia, sono veramente tanti. Allora per questo, per me è stata un po' una mission e ho cominciato a incontrare i ragazzi delle scuole medie, poi ho cominciato anche a incontrare quelli di liceo, ultimamente io sono costretto, sono chiamato dalle scuole in quarta e quinta elementare, perché già in quarta e quinta elementare purtroppo i ragazzi, i bambini, gli adolescenti a 9-10 anni hanno tutto il cellulare. E poi ho capito anche una cosa fondamentale col tempo, che è importante completare questa serie di incontri, chiudere il cerchio incontrando i genitori, parlando con i genitori dei ragazzi, perché tante volte veramente i genitori non si rendono conto di quello che fanno i loro figli, di come i loro figli gestiscono i social, come gestiscono TikTok e tanti altri social, non lo sanno. Per loro è un mondo completamente a parte, perché noi stiamo parlando, questi ragazzi, questi adolescenti, dagli esperti, sono definite la generazione Z, sono quelli nati dal 1990 in poi fino agli anni 2010. E per loro è stato veramente traumatico, perché non so se vi ricordate, io alla mia età, come tanti genitori, eravamo abituati a giocare all'aperto, a divertirci fra di noi, a avere delle relazioni e tutti gli esperti dicono che veramente la possibilità poi di interagire con le persone, le capacità cognitive si sviluppano con il gioco. I ragazzi di oggi non sono più abituati a giocare, a interfacciarsi realmente nella vita reale con gli altri bambini. E loro hanno avuto questa transizione, addirittura un famoso scrittore, uno dei massimi esperti americani, che si chiama Jonathan Haid, ha scritto proprio un libro, La generazione ansiosa, come i social hanno rovinato i nostri figli. Lui parla proprio di riconfigurazione, nel senso che questa generazione Z, questi ragazzi, hanno dovuto passare dal gioco al cellulare. In pratica loro sono sempre su un cellulare o comunque su un tablet, su un computer. E questo veramente cambia completamente la loro capacità, la loro crescita. E noi vediamo, oltre ai dati del bullismo, del cyberbullismo, sono aumentati in maniera spolenziale, ma si parla di aumenti anche fino al 300%, i ricoveri e le richieste di aiuto schiatrico di ragazzi e di adolescenti. Perché stare sempre su questi cellulari, su questi tablet, stare sempre veramente davanti a un video, provoca dei grossi disturbi, ansia, depressione, disturbi alimentari, mancanza di attenzione. Io quando vado a parlare nelle scuole è difficile riuscire a tenere un ragazzo un'ora e mezza, due ore attento, perché hanno una capacità di attenzione e di ascolto molto molto limitata. Ma non è colpa loro, perché purtroppo passano 8-10 ore su un cellulare o su un tablet. Quindi questo è importantissimo. Il TikTok. Il TikTok è un social come tanti altri. Molti genitori, per questo dico è importante parlare con i genitori, molti genitori ignorano anzi che sotto i 13 anni i loro figli non potrebbero essere iscritti ai social. Non potrebbero, è fietato. Quindi quando io vado in una scuola elementare e questi bambini hanno tutti i cellulari e sono tutti iscritti ai social, gli dico, ma voi come fate ad essere iscritti a un social? Schieramente perché? Perché vi siete iscritti con l'account del papà o con l'account della mamma o con l'account del fratello o della sorella più grandi? Perché se non voi non potreste essere sui social. In pratica voi, tra virgolette, avete già infranto la legge, perché è vietato. Chiaro che non ci sono sanzioni, quindi lo fanno tutti. Però io questo lo dico anche ai genitori. Voi avete messo in mano uno strumento, un cellulare che se usato in maniera sbagliata diventa un'arma, può veramente far del male. E soprattutto, come dicevi giustamente, questi problemi stanno aumentando in maniera esponenziale, lo dicono proprio gli ultimi dati del Ministero dell'interno della Polizia di Stato e della Polizia Postale, nelle classi medie, dove c'è ancora tanta mancanza di consapevolezza. Per fortuna nelle scuole superiori un pochino sta diminuendo, però sta cominciando anche a aumentare nelle classi elementari, perché chiaramente un ragazzino da 9-10 anni non si rende conto poi di quanto possono fare male le parole, di quanto possono fare male i certi insulti. E poi purtroppo, vivendo sempre in questo mondo virtuale, noi lo vediamo anche quanti fatti criminali ci sono, tante volte i ragazzi ormai tendono a confondere il virtuale con il reale, come se vivessero una vita dissociata. Quindi è fondamentale, l'unica cosa che possiamo fare veramente per cercare di cambiare questo stato di cose è fare un'intensa attività di prevenzione, andare a parlare nelle scuole, andare a parlare classe per classe, incontrare i genitori, farli capire quanto possa essere pericoloso usare in maniera sbagliata un cellulare, un social. Io per esempio, una cosa che dico sempre loro, guardate, perché questo lo dice anche Jonathan Haidt, purtroppo noi nella vita reale, voi lo sapete meglio di me, noi siamo iper protettivi nei confronti dei nostri figli. Sappiamo che se piove, a scuola lo portiamo in macchina perché abbiamo paura che si bagni, non lo facciamo andare neanche in bicicletta. Siamo iper protettivi, stiamo attenti a tutto. Invece quando gli mettiamo in mano un cellulare, sappiamo che la nostra cameretta va davanti al pc, noi siamo tranquilli, è a casa. Sì, magari è dato anche il fatto, no, non mi ha mai fatto niente al cellulare. Certo, è a casa, siamo tranquilli, qua con noi non gli può succedere niente. Io qui vorrei un attimo interrompere, le leggo due dati ripresi dal Dipartimento per le politiche della famiglia, dove le nuove generazioni dicono appunto che il 66% dichiara che dopo la scuola è il luogo dove è più probabile essere vittime di violenza e proprio internet per il 39% si abbassa il dato per quanto riguarda le ragazze che invece in questo dato si rispecchiano maggiormente nella strada dopo la scuola. Ma c'è anche un altro dato piuttosto evidente dove per il 56% il rischio maggiore in cui si incorre nel mondo online è proprio quello del cyberbullismo, superato dall'adescamento da parte di estrani, molestie, all'invenzione della vita reale, stalk, quindi il bullismo proprio per i ragazzi viene inquadrato come il cyberbullismo, come il problema principale del web e del rischio maggiore dopo la scuola. Di questo adesso poi ne parleremo a brevissimo. volevo un attimo andare anche sulla dottoressa Palma, ecco si è parlato un po' della reazione avuta dal bullo dopo il gesto di pace di Leonardo, io ho detto offesa, l'avvocato ha detto in realtà si è sentito più potente, cosa è successo? Allora sicuramente è difficile dare una risposta certa perché bisognerebbe essere nella mente del bullo in quel momento e sono risposte sicuramente soggettive. Certo è che il bullismo è una dinamica che si alimenta di potere per cui la risposta dell'avvocato è una risposta corretta, nel senso che nel momento in cui la vittima ha delle manifestazioni che fanno sentire il bullo più potente la dinamica prende potere, prende piede, perché ciò che contraddistingue il bullismo da situazioni che possiamo dire di semplice litigio, di presa in giro, comunque dinamiche che fanno parte un po' anche del periodo evolutivo adolescenziale in ambito scolastico in particolare, sono tre caratteristiche specifiche, cioè il bullismo è una dinamica intenzionale in cui il bullo agisce con consapevolezza e volendo creare del disagio nella vittima. È una dinamica che è reiterata nel tempo, quindi non è isolata ed è una dinamica che si nutre della simmetria, per cui c'è una disparità di potere o di mezzi fra bullo e vittima. Detto questo poi ci sono diversi tipi di bullismo, abbiamo un bullismo più diretto come in questo caso in cui ci sono attacchi fisici, verbali e un bullismo più indiretto in cui è più difficile anche farlo emergere perché si va ad agire in maniera appunto indiretta tramite l'isolamento sociale della vittima e quindi tramite un attacco alla reputazione, messaggi, si cerca di non invitare più la vittima negli eventi sociali, insomma si cerca di fare terra bruciata intorno. Tutte queste, sia nel bullismo diretto sia nel bullismo indiretto, dicevamo, c'è una intenzionalità nel senso che maggiore è la reazione provocata nella vittima e il bullo maggiormente aumenta. Quello che possiamo dire è che ci sono sicuramente dei fattori di rischio e dei fattori di protezione però anche perché bisogna concentrarsi molto su quelli secondo me perché si è parlato di prevenzione e non possiamo andare a eliminare chirurgicamente il bullismo ma dobbiamo intervenire sulle dinamiche che lo sostengono. Dicevo che ci sono dei fattori di rischio che sono singoli soggettivi ma sono soprattutto dell'ambiente culturale e sociale e ci sono dei fattori di protezione. Al di là di quelli che sono soggettivi, molto importante è quello che succede nel contesto quando ci sono atti di bullismo per cui è importante che il mondo adulto sappia rispondere e il mondo dei pari sappia rispondere. Però per poter far questo occorre che questo terreno non sia un terreno fertile per dinamiche di bullismo e quindi bisogna agire prima, bisogna agire prima andando a fare sì incontri educativi nelle scuole, assolutamente, sono sicuramente importanti però sono sempre degli interventi secondo me che lavorano su una logica di lavorare sull'emergenza. Noi dobbiamo fare in modo invece di lavorare in prevenzione primaria oltre che secondaria e terziaria per cui dobbiamo andare a fare una formazione che sia organica, sistemica, sistematica quindi non singola e non demandata alla virtuosità del singolo istituto per esempio, ma deve essere sistematizzata questa questa prevenzione. Ci deve essere una formazione emotiva, un'educazione emotiva che coinvolga adulti e ragazzi, non solo i ragazzi, non sono i ragazzi. Nella dinamica del bullismo sono gli attori sono sia gli adulti che i ragazzi perché il ragazzo deve potersi sentire di portare il proprio disagio da qualche parte e se il mondo adulto non è pronto a ricevere questo disagio per caratteristiche specifiche proprie, i ragazzi non sono pronti a poter sostenere la vittima anche perché in adolescenza il giudizio dei pari è quello più importante per cui per esempio abbiamo detto cosa c'è nella mente del bullo ma cosa c'è nella mente della vittima? Un grandissimo senso di inadeguatezza, un senso di colpa che sembra assurdo poterlo dire ma come se tu vittima che ti senti in colpa sì perché in adolescenza già il senso di inadeguatezza è proprio tipico dell'adolescenza, vergogna, senso di non essere abbastanza vulnerabile e nel momento in cui uno dei tuoi pari, un tuo coetaneo va a colpire su questo senso di inadeguatezza la vittima molto spesso si sente meritevole di ricevere un certo tipo di attacco e quindi qui si alimenta ulteriormente quella dinamica per cui dobbiamo poter lavorare per depotenziare i fattori di rischio e per potenziare i fattori di protezione sia a livello dei ragazzi sia a livello del del mondo adulto. Ecco, andrei su un altro dato che è piuttosto significativo che è quello che riporta l'UNESCO dove afferma che il 30% della popolazione studentesca mondiale ha sofferto di bullismo, è un dato enorme, parliamo quasi di uno studente e su tre il dato sale nella fascia dei giovani italiani dai 14 ai 26 anni con il 63% che avrebbe subito o assistito ad episodi di bullismo e sale al 71% se oltre la violenza fisica come diceva la dottoressa si aggiunge anche quella psicologica o verbale. Su questa base ovviamente va aggiunto nell'incremento dei dati rispetto a quelli precedenti anche il fattore del cyberbullismo di cui parlavamo prima l'anzi, il cyberbullismo in cosa si differenzia dal bullismo? Il bullo si sente più sicuro magari dietro uno schermo ci sono più vittime per il bullo e allo stesso tempo più bulli che possono andare ad aggredire, cosa cambia? Il cyberbullismo è un'evoluzione di bullismo, spesso conviva perché è chiaro che tante volte, soprattutto adesso, anzi sono due, il cyberbullismo quando adesso un ragazzo è perseguitato dai bulli esistono entrambe come dinamiche nel senso che il bullismo è quando chiaramente un ragazzo è preso di mira dal vivo nel mondo reale poi nel mondo social però cosa succede? Spesso addirittura quando alcune vittime sono prese di mira ci sono i ragazzi che fanno dei video, li riprendono, poi se li mettono sui social e poi non diventa il cyberbullismo come diceva giustamente prima la dottoressa per parlare di bullismo questi atti devono essere reiterati nel cyberbullismo basta una volta sola, basta una volta che venga pubblicato un video, un'offesa, un commento, una foto già si parla di cyberbullismo ed è molto più pericoloso del bullismo nel senso che il bullismo esiste da sempre da quando esiste l'uomo, addirittura del mondo di amici ha scritto un libro proprio sul bullismo quindi esiste da quando esiste l'uomo invece adesso con il cyberbullismo il problema è che chiaramente si diffonde a macchia d'olio si parla proprio di un effetto valanga nel senso che se uno, abbiamo visto, quante visualizzazioni ha visto quel video su TikTok 41.000 visualizzazioni nel giro di un'ora e mezza un altro di bullismo se avviene per esempio vicino a una scuola, un campo sportivo quando stai facendo qualsiasi attività anche in un parco all'aperto chiaramente possono vederlo 4-5 persone poi il vantaggio è che se per fortuna passa lì vicino qualche adulto può intervenire e aiutare il bullo poi se il bullo va a casa, se la vittima va a casa, il bullo non lo segue dentro casa quindi in teoria è un tempo quando eri almeno fra le mula domestiche eri al sicuro adesso cyberbullismo? No, perché addirittura la maggior parte delle ragazze che si toglie la vita si toglie la vita lanciandosi, gettandosi dalla finestra della propria cameretta che è proprio l'ultimo rifugio e dove poi soprattutto tante volte collegandosi a un cellulare a un tablet loro subiscono tantissime violenze online, sui social proprio per questo ci sono i commenti che vengono dietro il caso emblematico, il caso proprio simbolo in Italia della lotta al cyberbullismo è il caso di Carolina Picchio Carolina Picchio è un caso fondamentale, una ragazza che si è suicidata nel 2013 suo padre, sappiamo benissimo, ha creato una fondazione adesso anche a Torino gli è stata dedicata una scuola però questo, il cyberbullismo veramente è pericoloso in questo senso perché è quasi impossibile arginarlo perché è un effetto veramente valanga e i ragazzi veramente qui vengono anche anzi, altra cosa importante li facendo un attimino al senso di inadeguatezza al rapporto fra i pari che diceva la dottoressa i ragazzi quando vengono attaccati sui social vedono la loro identità digitale distrutta, violentata che ormai per i ragazzi, ripeto, che passano gran parte del tempo sui social la maggior parte del tempo l'identità digitale quasi assume, anzi assume una rilevanza superiore a quella reale e sui social se vengono attaccati questa identità digitale viene completamente violentata, distrutta Dottoressa, sia adesso con l'intervento dell'ansia anche prima con l'avvocato e stesso lei parlando di bullismo e severbullismo abbiamo sempre utilizzato il termine almaschile il termine bullo anziché bulla oltre appunto a chiedere perché aumenti questo dato con i social nel senso a livello psicologico cosa cambia rispetto al bullo fisico quando si trova sul web e anche la vittima, appunto già Lanzi lo aveva accennato io le darei anche un altro dato dell'ABSC che è quello dove vede il bullismo come un fenomeno correlato ai valori della società maschile in alcuni casi viene identificato come un rito di passaggio maschile è d'accordo con questa affermazione? poi la riporta anche il Ministero della Salute sì e no, nel senso che come sempre non c'è una risposta semplice diretta ma è complessa se intendiamo il bullismo come una dinamica che si nutre di aggressività siamo portati a pensarlo come una caratteristica maggiormente tipica del mondo maschile ma nel senso di un esercizio di potere che passa per l'aggressività ma l'aggressività in realtà ha tante forme per esempio quando dicevamo la forma di bullismo indiretta in cui si tenta di far terra bruciata intorno alla vittima isolandola e in questo campo anche le ragazze insomma hanno è una forma di esercizio di aggressività in modo diversa che attraversa un altro canale diciamo però quindi sì ci sono dei manifestazioni che possiamo dire più tipiche del mondo maschile, più tipiche del mondo femminile ma che non esauriscono poi la differenza di genere in questo senso per cui direi che ecco il discorso di internet dei mezzi come diceva Lanzi sicuramente la cosa importante è che il mondo adulto li conosca li conosca altrettanto bene dei ragazzi perché non possiamo pensare che possano essere lasciati soli a maneggiare uno strumento così non possiamo controllarlo ma non dobbiamo neanche controllare i mezzi dobbiamo però conoscerli, dobbiamo fare in modo di conoscere soprattutto quali sono i modelli identificativi a cui accedono attraverso i social e non solo perché comunque siamo in una fascia di età in cui fra i compiti evolutivi tipici c'è anche quella della formazione del proprio senso di valore, dei valori e del debutto diciamo in società, nel mondo sociale ed è anche per questo che quindi abbiamo detto i pari assumono molta più importanza e che si sta creando la propria identità, la propria identità digitale, la propria identità personale la propria immagine corporea e non solo e il proprio sistema di valori per poterlo fare è chiaro che come anche in questo caso non possiamo controllare tutti i modelli di identificazione ma dobbiamo conoscerli, possiamo discuterne, dobbiamo sapere che cosa fanno online non per interrogarli, hanno bisogno anche di uno spazio privato sicuramente non dobbiamo essere i controllori dei ragazzi ma dobbiamo conoscere, dobbiamo dargli la possibilità di parlare di queste cose dobbiamo conoscere quali sono i modelli su cui si fondano vanno a costruirsi la propria identità e i propri valori e anche in questo senso quindi che cosa fanno qual è che può essere un modello identificatorio può essere quello che assume potere attraverso l'isolamento dell'altro A conferma anche di quello che ha detto su una distinzione che non dovrebbe essere fatta e dopo vado a riportare quello che ho trovato in questo caso in rete su siti governativi istituzionali appunto si attesta come nella fascia tra i 11 e i 13 anni in percentuale saranno maggiormente le donne a subire bullismo dato che poi si inverte ma veramente di pochi punti percentuali superati i 15 anni con un 9,9 per i ragazzi e il 9,2 per le ragazze Avvocato Perrici, parlando di cyberbullismo a me viene in mente uno dei problemi maggiori forse della società odierna in termini legislativi qui entriamo proprio nello specifico del suo ruolo di avvocato anche una consulenza se così vogliamo chiamarla il problema di oggi è che le leggi sono troppo lente vengono fatte in maniera troppo lenta rispetto a quanto si evolue in web abbiamo avuto un'esplosione dei social e ancora stiamo cercando di capire che leggi fare per modellarlo come appunto affermava anche l'ansi c'è forse poca giuridizione intorno al mondo dei social a me viene ad esempio il diritto all'oblio che è un diritto sacrosanto viene meno spesso con i social ma io credo che non sia un problema di velocità nel fare le leggi ma è come si fanno le leggi, quante leggi si fanno e se queste leggi vengono applicate in realtà l'Italia è una delle nazioni dove si leggiverà maggiormente rispetto a tante altre nazioni tante leggi vengono fatte ma non vengono applicate è stata fatta la legge numero 70 nel 2024 per quanto riguarda il bullismo ma quanti la applicano questa normativa? cosa viene fatto a livello di prevenzione? quindi il problema non è il fare la legge il problema è che in realtà queste leggi non vengono applicate per i social ci sono tutta una serie di social come ha detto Marco Lanzi prima dove è prevista una determinata età spesso volentieri anche i miei figli me l'hanno chiesto mamma mi iscrivo cambiando la data di nascita allora siccome io conosco i miei figli e loro con me parlano io gli ho detto non ti permettere a fare una cosa del genere perché è come se fosse che vado il limite di velocità è 130 ma la mia macchina fa 200 quindi io vado a 200 c'è una legge e la devi rispettare perché forse il problema di questa società è proprio i limiti il voler perché tutto si fa sempre molto più precocemente quindi si va alla ricerca della nuova emozione della nuova sensazione alla ricerca di qualcosa in più e questi ragazzi cercano di trovare all'interno di quella che è la rete all'interno di quello che è il cellulare, all'interno di quello che è il tablet quello che probabilmente non hanno nella vita reale quindi si fanno una vita alternativa allora il problema qual è? è che bisogna applicarle queste normative bene, c'è una età per potersi iscrivere al social? bene, mettiamo l'obbligo di consegnare la carta d'identità per potersi iscrivere al social e mettiamo una sanzione siccome i ragazzi sono minori mettiamo una sanzione economica per i genitori si discuteva dello speed ad esempio, no? come ipotesi lo speed ha dei grossi problemi perché non è proprio molto sicuro io ho avuto dei clienti che purtroppo hanno avuto il furto dello speed quindi perché non è veramente tanto sicuro però i metodi per poter far sì che la legge funzioni ci sono quindi iniziamo a mettere degli obblighi con delle relative sanzioni perché fare una legge purtroppo senza trovare la corrispondente sanzione è come non farla? cioè dire questo non lo devi fare ma non dire quello che ti può accadere se lo fai è come non farla cioè poi appunto fare una cosa e poi non essere puniti incettiva tutti gli altri a farlo assolutamente sì anzi con dietro uno schermo ci si sente ancora più forti no? perché nella mente di quello che è il bullo ci si senti invisibili bravo di poter essere riconosciuto e identificato assolutamente sì è quello che stavo dicendo nella mente del bullo se io devo prendere in giro te e ti devo aggredire ci devo mettere la mia faccia se lo faccio fisicamente se lo faccio da uno schermo è molto più facile perché per loro è difficile essere rintracciati e purtroppo siccome ci sono tantissimi casi in cui anche la polizia postale fa fatica perché cambiano spesso i programmi che cambiano i dp le tracce si rendono invisibili c'è addirittura la possibilità di nascondere il profilo e quant'altro ci si sente ancora più forti spesso volentieri prima abbiamo parlato della differenza fra il bullo maschio e il bullo femmina la bulla nel caso di Leo c'era una ragazza e due ragazzi per le femminucce in una certa età è più semplice isolarti quindi fare un determinato tipo di bullismo allora il problema è che bisogna combatterlo prima non quando si è verificato in alcuni stati io faccio un esempio in alcuni stati da bambini sin dall'infanzia ma dalla precoce infanzia abituano i ragazzi nelle scuole fanno il philosophy for the children che è bellissima perché mettono questi bambini piccolini bambini anche di 3-4 anni in cerchio aiutati da un mediatore o da uno psicologo dove partono da una parola ed esprimono quello che quella parola li porta nel loro intimo mettendoli a confronto questo cosa significa? abituare i ragazzi e confrontarsi nelle scuole si fanno tantissimi laboratori queste scuole fanno le corse per fare i CPO i CPT e tutto quello che c'è intorno in realtà bisognerebbe fare dei laboratori per il confronto riabituare rieducare le confronti di educazione emotiva di rispetto degli altri rieducare ma non solo i bambini e i ragazzi e gli adolescenti gli adulti perché il peggiore bullismo che viene fatto è quello verbale alla quale quotidianamente assistono i nostri figli che non sono i figli di nessuno sono i nostri figli vivono la società che noi abbiamo creato quindi bisogna rieducare i genitori rieducare gli adulti al confronto perché spesso volentieri anche i confronti degli adulti sono dei confronti molto accesi e questi figli vivono questo rieducare i docenti a fare i docenti quindi a riutilizzare l'autorevolezza ma soprattutto far sì che la scuola faccia una prevenzione effettiva ed una istruzione dei docenti effettiva noi abbiamo una scuola che si regge sul precariato questi docenti non sono in grado di gestire perché non sono abituati e questo è una concausa dell'aumento dei casi di bullismo magari se sono loro non possono fare gruppo tra docenti perché magari tra sei mesi sono da una parte tra tre mesi un altro da un altro magari sei mesi anche una settimana poi come sappiamo benissimo ci sono lo leggiamo tutti i giorni ci sono tantissimi casi addirittura di insegnanti che vengono picchiati addirittura di presidi che vengono picchiati solo perché hanno dato un'insufficienza ai figli a scuola quindi immaginiamo qual è il problema degli insegnanti rifacendomi posso intervenire rifacendomi un attimo al discorso che faceva la Pia guardate per dire è fondamentale parlavamo dei genitori che devono essere coinvolti anche loro in qualche modo veramente bisogna coinvolgerli nel senso che esiste veramente un gap tecnologico enorme ormai tra i genitori tra le famiglie e i loro figli e io dico gli vuoi dare il cellulare a 9, 10, 11 anni però devi fare un patto non esiste una password tu il momento in cui genitore io ti voglio vedere il cellulare tu me lo devi far vedere guardate questo per esempio quello che accade questo è un articolo recentissimo di un quotidiano nazionale chat dell'orrore alle scuole medie pedo pornografia e svastiche racconto una brevissima storia una storia vera dove è indagato c'è stata una indagine molto molto importante della polizia postale a Firenze una mamma che ha un figlio di 13 anni primo dalla classe che a un certo punto comincia a prendere delle insufficienze comincia a saltare il pranzo comincia a saltare la cena a svegliarsi di notte la mamma gli chiede ma cos'è che non va che la mente si preoccupa il figlio risponde in maniera molto vaga mamma non ti preoccupare ho tante cose da fare è un momento in cui sono un pochino ansioso sono un pochino tutti questi impegni mi stanno caricando passerà tutto invece le cose peggiorano e la mamma a un certo punto fa una cosa che non aveva mai fatto prima aveva dato in mano il cellulare a suo figlio a 9 anni e dai 9 a 13 anni non glielo aveva mai controllato è andato a vedere il cellulare di suo figlio si è accorto che suo figlio faceva parte di un gruppo di Whatsapp con altri 432 utenti e ha visto quello che vedeva suo figlio ha visto quello che vedeva ed è corsa alla polizia postale perché suo figlio vedeva immagini di donne violentate di bambini di 2-3 anni violentati di animali seviziati questa è l'immagine che vedevano e addirittura ha visto una foto di se stessa nuda la mamma di se stessa nuda nella chat di suo figlio perché chiaramente in queste chat che vengono gestite da adulti da pedofili che in qualche modo manipolano la mente di questi ragazzini di questi adolescenti che gli fanno credere che stanno partecipando a un grande gioco collettivo ogni tanto lanciavano la sfida il gioco fate di nascosto una foto a vostro padre o a vostra madre nudi vince chi fa la foto più esplicita e loro la facevano perché per loro era un gioco immaginate quindi cosa può provocare la mancanza di attenzione perché ripeto nella vita reale noi stiamo attenti a quello che fanno i nostri figli nella vita virtuale tante volte non li controlliamo e pensiamo che invece se loro sbagliano a fare qualcosa nella vita virtuale e vanno per esempio anche su un sito pornografico vuoi facilissimo entrare perché l'unica domanda di accesso per poter entrare in un sito pornografico ti chiede hai più di 18 anni yes or no cosa fa un bambino di 10 anni che è curioso mette yes e ci entra chi è che ti fa vedere il semaforo rosso ti mette davanti una paletta al semaforo e ti dice no questo non lo puoi fare nella vita reale se tu devi attraversare la strada il semaforo rosso non lo attraversi nel mondo virtuale e in internet se tu vai su un sito pornografico o su un sito dove vengono pubblicati video violentissimi che ti dice di non andarci sei tu da solo col tuo strumento ci vai anche perché sei curioso e questo ti distrugge ti distrugge veramente anche perché tu a un bambino di 10 anni non puoi vedere queste immagini ed è pazzesco e chiudo che addirittura alcune volte quando io vado nelle scuole elementari ci sono bambini che hanno per esempio già visto la serie tv Dammer Dammer è una serie tv vietata ai 18 anni che è la storia di un serial killer che uccide 17 adolescenti li fa a pezzi e si rimangia ma come fai a permettere al tuo figlio di vedere su Netflix una serie tv del genere perché lui nella sua cameretta non gli ha emesso nessun parental control e può accedere alla visione di qualsiasi serie tv anzi per loro è uno stimolo perché il vedere sullo schermo vietato ai minori di 18 anni anzi l'incorosisce per loro superarli è come quando da piccolini a noi ci dicevano devi rientrare alle 10 e per fare la sfida verso papà cerchia perché volevi imporre la tua persona anch'io anch'io però è proprio è innato nella natura per affermarti che sei adulto arrivi alle 10 a 3 minuti per loro superare quello è uno stimolo perché hanno il proibito il senso del proibito no? sì sì su questo infatti volevo dire brevemente due cose su quello che è stato detto intanto sul discorso del controllo dell'età della legge sicuramente certo ma non può essere quello non è quello non è quello non è il controllo anche perché come abbiamo detto forme di identificazione se non internet non è il problema è un mezzo va conosciuto non possiamo controllare internet possiamo fare attenzione ai nostri figli fare attenzione essere con loro discutere di quello spiegare cercare di capire sembra una cosa banale parole fumose no non c'è nulla di più concreto perché non possiamo controllare siamo in una società in cui internet è fondamentale ed è anche un mezzo potentissimo utile dobbiamo imparare a conoscere utilizzarlo noi dobbiamo stare insieme ai nostri figli per sapere come viene utilizzato insegnarli cercare di capire ma non possiamo controllare tutto quello a cui potranno accedere non è il controllo è l'attenzione sicuramente e un'altra cosa molto interessante quando si parlava di queste esperienze con i bambini assolutamente bisogna partire dalle elementari genitori figli adulti bambini dalle elementari ma a fare cosa a sviluppare a insegnare a formare neanche a insegnare a formare alle competenze comunicative all'empatia e questo si fa facendo queste esperienze ma lo ripeto e lo ribadisco in modo organico non nel singolo istituto non con la singola famiglia deve essere una cosa a tappeto perché noi non possiamo andare ad agire sul singolo dobbiamo andare ad agire sulla società e per farlo in modo che nel momento in cui ci sono delle dinamiche non solo di bullismo ma in generale come gettare un cerino sulla terra dove c'è un terreno che insomma prende fuoco facilmente o buttarlo invece dove c'è una società dove ci sono dei ragazzi degli adulti dei genitori che hanno sviluppato delle competenze che quindi possono spegnere quelle fiamme nel momento in cui c'è il pericolo quindi non andare ad agire sull'emergenza ma sulla sulla prevenzione assolutamente dottoressa ecco io vorrei parlare anche di quello che c'è nella nella mente della vittima di bullismo per farlo introduco ormai prendo questa abitudine dei dati l'osservatorio internazionale del bullismo e della cyberbullismo con un lavoro svolto da un tindin di 50 mila collaboratori si posiziona per gli episodi di grave bullismo quindi quelli gravi l'Italia al diciottesimo posto del mondo praticamente dei paesi analizzati con 32.600 casi gravi di bullismo fortunatamente tra virgolette le marche hanno il 2% di questa di questa percentuale ben più alta è la Lombardia al primo posto con il 18% ecco e nel 79% dei casi è l'aspetto fisico la motivazione che spinge al bullismo 15% l'orientamento sessuale scende al 4% ad esempio quello della religione che spesso è più un dibattito degli adulti ecco da questo punto di vista che è dal punto dei ragazzi ma nella mente di questi giovani di queste purtroppo vittime di bullismo cosa si crea no? Lanzi parlava di questo gruppo telegram perché il ragazzo non è uscito da quel gruppo telegram? Allora sicuramente nella mente della vittima c'è un grande dolore psichico in questo caso dico sicuramente perché perché comunque in adolescenza già c'è una si attraversa un periodo di grande confusione quindi una quota di sofferenza è inevitabile questo non per patologizzare l'adolescenza perché l'adolescenza non è patologica di per sé però sicuramente si attraversa un momento in cui c'è c'è del disagio diciamo così in situazioni di bullismo non possiamo non immaginare che questo disagio si amplifichi enormemente e soprattutto si senta di non avere una via di fuga quello che si diceva sul dato rispetto al contenuto del bullismo e cioè degli attacchi fisici perché comunque in adolescenza un altro dei compiti evolutivi è quello della mentalizzazione del corpo in cui si crea quindi la propria immagine si lavora sulla propria immagine corporea e nella società di oggi sicuramente questo discorso la mentalizzazione della propria immagine corporea a livello estetico assume un'importanza fondamentale i social poi ampliano ancora più amplificano amplificano e complessificano diciamo questo compito per cui è sicuramente un facile terreno su cui andare a colpire perché c'è un senso di inadeguatezza rispetto alla propria immagine corporea questo perché mi ricollego al discorso del dolore siamo in una società in cui gli adulti io sposto sempre sugli adulti siamo qui per parlare dei ragazzi ma è fondamentale che parliamo degli adulti siamo in una società in un mondo in cui gli adulti non sono più abituati a confrontarsi con questo dolore degli adolescenti si è parlato prima di precocizzazione delle esperienze assolutamente c'è una famiglia molto più attenta in realtà da un certo punto di vista lo sviluppo emotivo dei figli però è anche una società che spinge alla realizzazione individuale ad ogni costo questo significa che si hanno delle aspettative enormi e nel momento in cui si arriva a confrontarsi con l'adolescenza è inevitabile che queste aspettative crollino semplicemente perché fino a quel momento non si era messo in conto il fallimento il dolore la sofferenza ma in adolescenza con tutti i cambiamenti che arrivano inevitabilmente quelle aspettative crollano e a quel punto cosa succede che il ragazzo ha bisogno di poter è lui a sentirsi inadeguato perché come fino adesso mi hanno fatto credere il mondo la società mi ha fatto credere che potevo essere qualsiasi cosa e invece che cosa sono sono una delusione sono una delusione questo crea sofferenza una sofferenza che dove va portata se anche il mondo adulto stesso non è pronto a confrontarsi con queste situazioni e allora si cerca la risposta ed ecco che internet non è il male ma è la spesso sono addirittura tante mamme che si mettono in competizione con le figlie sui ttok sui video quindi non solo addirittura si mettono in competizione come immagine perché noi adulti viviamo nello stesso mondo infatti questo non è per cercare capri espiatori ma noi siamo noi stessi vittime un po' anche per questo che bisogna ripartire proprio assolutamente come dico sempre deve essere un qualcosa che coinvolge tutti tutti i livelli assolutamente a riguardo visto che siamo nelle fasi conclusive io vorrei far dire una parola a tutti e tre gli ospiti che assieme anche alla direttrice non abbiamo scelto in maniera casuale ecco forse l'ordine stavo pensando magari l'avvocato andava messo prima di l'anzi perché ecco il passaggio che io immagino in una situazione di bullismo una persona si rivolge a una psicologa per poter appunto affrontare iniziare a parlare del problema poi il passaggio successivo può essere quello di recarsi da un avvocato con la quale affrontare la questione che poi esporrà la denuncia appunto alle forze dell'ordine e alla polizia affinché si venga risolto il problema prima che si arrivi ad un gesto tragico quindi vorrei chiedervi anche di parlarvi del ruolo che ricoprete da questo punto di vista a partire appunto dallo snodo uno di cui si parlava anche prima della trasmissione che è appena nato e serve proprio un pochettino a dare un rifugio visto che non c'è più la scuola non c'è più la casa in alcune situazioni si cerca magari di crearlo all'esterno sì allora ecco io infatti ringrazio a nome dello snodo per l'invito a parlare di questo argomento è lo snodo in cui io presto ogni tempo la mia professionalità ho una formazione specifica in adolescenza io lavoro in ambito privato quindi può capitare che mi arrivino dei ragazzi in ambito privato lavoro in un centro per la famiglia lavoro nelle scuole lo snodo 1 in che modo si pone in questo ambito snodo 1 innanzitutto devo ringraziare perché nasce grazie al contributo economico della Rotary Foundation e all'impegno del Rotary Club di Pesaro e alla messa a disposizione dei locali da parte di Don Giuseppe della parrocchia di Loreto per cui sicuramente grazie per aver investito su questo progetto che è stato pensato e fortemente voluto nell'anno della presidenza del Rotary Club della dottoressa Scicchitano che attualmente ne coordina tutte le attività quindi coordina le attività dello snodo 1 in cui io insieme ad altri professionisti cerchiamo di fare cosa il compito l'obiettivo molto ambizioso è quello di fare rete di lavorare in ottica di condivisione parlavamo di quel dolore adolescenziale delle famiglie ecco lo snodo 1 è un luogo di snodo di passaggio in cui cerchiamo di fornire un primo punto d'appoggio a quel dolore a quella domanda che a volte non trova altro luogo e cercare di metterlo in rete con i servizi che a vario titolo lavorano sul territorio e quindi che possono poi prendersi cura a seconda delle esigenze che verranno rilevate e quindi anche in caso eventuale di situazioni che possono anche perché è molto difficile che emergano i dati sul bullismo ma c'è un bullismo sommerso tantissimi casi di bullismo non emergono proprio perché non trovano un canale per potersi esprimere ecco noi cerchiamo di essere un granello un ingranaggio in un meccanismo che però per funzionare ha bisogno di tanto altro di tanti altri ingranaggi intorno a sé i dati lo dico i dati riportati sono tutti dal 2022 perché sul 2023 il 2024 è stato letteralmente impossibile trovarli e quelli precedenti erano del 2017 quindi noi abbiamo un paragone che va a distanza probabilmente i dati li avremo nel 2027 a questo punto quindi su questo la dottoressa ha fatto benissimo a precisarlo i dati non sono facili da trovare sulla questione e andrei sull'avvocato visto appunto il discorso che facevamo del passaggio di una persona che deve fare c'è anche appunto la legge a tutela delle persone dovrebbe esserci la legge dovrebbe dovrebbe esserci la legge purtroppo la legge non c'è sempre anche perché da un punto di vista penale non c'è una legge sul bullismo quindi ci sono tutta una serie siamo ancora alla fase quando non c'era la legge sullo stalking c'erano i singoli reati quindi noi abbiamo tutti dei singoli reati e per cui il compito dell'avvocato è quello di far avere fiducia nella giustizia che non è poco perché spesso volentieri c'è la paura di esporre il figlio la paura che il figlio possa subire perché a volte i tribunali possono essere anche un po' cruenti perché necessariamente ci sono le varie domande le varie quindi da parte dei genitori c'è tutta una paura nel far affrontare questo per cui il compito dell'avvocato è quello di raccogliere tutte le informazioni possibili di prendere per mano sia i genitori prendere per mano in maniera non fisica ma accompagnarli in un percorso giudiziale per fare in modo che questo percorso sia il più semplice possibile il meno doloroso possibile ma soprattutto che conduca la vittima a riacquistare una fiducia in se stessa che è appersa a causa dei comportamenti del bullo questo è quello che generalmente faccio il luogo dove immaginiamo che l'avvocato accompagni la famiglia è rivolto anche verso le forze dell'ordine a cui spetta poi il compito di far rispettare tutelare quella che è la legge e anzi ci deve essere più fiducia nelle forze dell'ordine ma io credo che comunque fiducia ci sia il problema è che quando casi di questo tipo arrivano all'attenzione delle forze di polizia vuol dire che è comunque già tardi che è già successo qualcosa di grave che una tragedia si è già verificata che qualcuno l'ha già veramente sofferto vuol dire che non si è riusciti prima a fare un'attività di prevenzione o anche a livello di famiglia a livello di scuola o a livello di contesto sociale perché chiaramente prima anche i dirigenti scolastici prima di andare o i genitori prima di fare un denunci in polizia cercano di parlare con gli altri genitori di risolvere la questione di verificare quello che sta succedendo e quando chiaramente vengono in quest'ora vuol dire che è già tardi purtroppo si è verificata una tragedia o qualcosa o qualcuno sta veramente già soffrendo tantissimo io vorrei fare i complimenti a questa iniziativa andrò da uno poi Don Giuseppe per me è il mio parroco il parroco che mi ha sposato quindi lo conosco benissimo conosco anche bene la dottoressa Scicchitano è bellissimo conosco queste persone quindi non mi stupisce il fatto che loro abbiano avuto questa sensibilità di creare questa struttura che può dare veramente un supporto molto valido agli adolescenti che hanno dei problemi e poi tornando un po' a quello che all'inizio del nostro discorso la storia di Lorenzo mi ha colpito veramente tantissimo purtroppo i dati che hai dato sì sono dati ufficiali però sono veramente sottostimati nel senso che io credo che Leonardo scusate Leonardo perdonami tanto Leonardo però sono veramente sottostimati perché la la maggior parte delle vittime spesso non denuncia questi sono i casi appunto questi sono i casi che sono dei dati però sono veramente il mondo dei ragazzi bullizzati secondo me la platea è molto molto maggiore e la storia di Leonardo mi ha colpito tantissimo perché è accaduto adesso nel 2024 e ha qualche similitudine qualche similitudine chiaramente perché è una storia completamente diversa l'una dall'altra con quella di Andrea Spezza Catena che anche lui il ragazzo famoso dei pantaloni rosa che anche lui era stato bullizzato sia a scuola sia sui social ma soprattutto a scuola a scuola addirittura siccome lui aveva indossato anche questi pantaloni rosa era definito un frocio era definito un gay era perseguitato per via del suo presunto orientamento sessuale addirittura sul banco di scuola avevano scritto inciso nella classe Andrea Ferocio e anche lì la scuola non aveva preso nessun provvedimento non aveva fatto niente anzi la mamma l'aveva scoperto dopo quindi vedere che nel 2012 questo si è verificato e purtroppo ancora continua a verificarsi nel 2024 questo fa capire dimostra quanto sia profondo il problema quante cose ci siano a rifare quante cose veramente dobbiamo tutti quanti come società impegnarci a fare per cercare di sensibilizzare tutta la società riprende dai ragazzi ai genitori a tutto quello alla scuola alle famiglie a tutto quello che gira insieme alle scuole iniziative come Stondo Udo e tante altre iniziative sono veramente sono come un granellino però sono cose fondamentali importanti che possono dare anche un messaggio anche perché poi adesso le scuole anche per la legge in teoria sono obbligate a seguire questi corsi di formazione a fare formazione nelle scuole in teoria sono obbligate perché poi chiaramente se succede qualcosa all'interno della scuola e non hanno fatto nessun corso di formazione la famiglia della vittima può anche rivalersi da un punto di vista civile sulla scuola Io Marco con queste tue parole soprattutto con l'invito finale concluderei quello che è il programma la puntata di oggi ringraziando i nostri ospiti per la loro presenza per la loro disponibilità soprattutto per come hanno affrontato il tema e l'invito da parte mia da parte della redazione penso anche da parte loro sia quello di parlare denunciare se ce n'è bisogno perché è un fenomeno che va combattuto con tutti i mezzi e tutte le forze possibili le tre figure portate oggi sono un esempio dei mezzi e degli strumenti a nostra disposizione per contrastare il fenomeno dell'abolismo io ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito ringrazio nuovamente i nostri ospiti e ci vediamo alla prossima puntata